Abbiamo la coscienza tranquilla. Così la Holding Toto, che ha in gestione le A24 e A25, ha la notizia del sequestro di quasi 27 milioni di euro da parte della Procura di Teramo. Abbiamo sempre rispettato le prescrizioni, le regole e la tutela della sicurezza dei nostri utenti. Su questo però la Guardia di Finanza teramana ha qualche dubbio. Gli inquirenti infatti sostengono che Strada dei Parchi non ha provveduto dal 2009 ad oggi a nessun intervento sulle parti strutturali dei viadotti. La S.P.A. si sarebbe occupata solo di segnaletica, aiuole e pavimentazione e non degli altri obblighi discendenti dall'atto concessorio, fatta eccezione in due casi, quelli in cui i lavori erano finanziati da contributi statali. E ora i vertici della società dovranno rispondere di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, di sastro colposo e in adempimento di contratti di pubbliche forniture. Ma anche di abuso d'ufficio, perché i lavori erano affidati in gran parte alla società di costruzioni di Toto. Sono sette i viadotti del Teramano che presentano uno stato di degrado molto critico, con calcestruzzo ammalorato, canaline rotte e ferri arrugginiti, e intanto continuano a venire fuori ulteriori dettagli di una storia che investe tutta la politica, ad esempio il perché della bocciatura a fine 2019 da parte dell'Unione Europea riguardo il PEF, il piano economico-finanziario, che era predisposto dal Ministero e approvato dal Cipe. Questo violava la concorrenza e rappresentava un'incompatibile modifica contrattuale. In sostanza erano previsti i cospicui aiuti di Stato e la proroga della concessione fino al 2040. Per l'approvazione del PEF è stato nominato un commissario e adesso, grazie allo sblocca cantieri, arriva il secondo commissario. Si tratta del sulmonese Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI. I commissari ora dovranno definire il PEF dal valore di 3 miliardi e 100 milioni, di cui 2 miliardi pagati dallo Stato, e dovranno esprimersi anche sull'allungamento della concessione. Le indagini sono partite da segnalazioni della Onlus, Nuovo Senso Civico e della stazione ornitologica abruzzese, che avevano inviato un esposto anche al MIT. In una risposta di poche righe giunta da Roma, il Ministero riferisce solo di non aver potuto fare ispezioni sullo stato delle infrastrutture, poiché hanno ridotto il personale degli uffici. È una vicenda sconvolgente, che rischia di causare un vero e proprio terremoto politico a livello nazionale. Lo stato dei viadotti è preoccupante, e per fortuna in Abruzzo non vi sono state tragedie. Al vaglio però la possibilità di rinnovare la concessione a strada dei parchi per il tratto autostradale, che al momento è quello con il pedaggio più alto d'Italia. Intanto questa mattina a rifondazione comunista è andata sotto la villa del patron Carlo Toto, nel cuore di Pescara, a denunciare il silenzio delle istituzioni. Il Presidente della Regione non dice nulla, non dicono nulla quelli delle province, i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali. Ci sono svariate procure, perché ogni giorno ne esce una, che hanno aperto inchieste. In alcuni casi sono arrivati alle richieste di rinvio a giudizio. C'è stato persino il sequestro per milioni di euro del patrimonio di dirigenti o ex dirigenti di strada dei parchi. Pare, si è letto, che sia stato addirittura richiesto il rinvio a giudizio, anche per l'azionista di maggioranza. Toto, ora rispetto a questo, la politica non ha nulla da dire. Le privatizzazioni non funzionano, dice Cerbo, è tempo di revocare le concessioni. In caso l'indagine porti a rinvio a giudizio, Regione, Comuni e Province si costituiscano parte civile, perché in tal caso l'interesse della cittadinanza va tutelato. Due, noi pensiamo, e lo diciamo da anni, che queste concessioni debbano tornare in mano pubblica. Perché abbiamo visto, e il caso più emblematico è stata la tragedia di Genova, la strage con 43 morti, che la privatizzazione non ha funzionato. Per alcuni c'è stato tanto guadagno, ma le infrastrutture decadono. Ebbene, noi crediamo che la Regione dovrebbe costituire una commissione tecnica di alto livello per studiare una proposta per il ritorno in mani pubbliche di questa concessione. Perché è ora che ci riprendiamo le nostre autostrade.